Zelensky e Putin seduti alla stessa tavola per mangiare una margherita. È il presepe di buon auspicio creato a Napoli in occasione del Natale. Un messaggio contro la guerra russo-ucraina, nato da un'idea del maestro pizzaiolo Mauro e spedito alla guida della pizzeria WAP, One World All Pizzas. L'installazione realizzata al forno sarà esposta per tutto il periodo delle festività nel locale di Viaforia dove sapori sinceri ed essenziali risultano di bontà disarmante. Ai nostri microfoni Mauro è spedito. La pizza per la pace nasce molto semplicemente da una cena con mio figlio. Praticamente stavamo cenando e mentre mangiavamo la pizza è uscita l'ennesima notizia dei bombardamenti in Ucraina e mio figlio ha esclamato ma perché non si mangia una pizza? E da lì semplicemente mi è venuta l'idea di creare questa pizza per la pace da far condividere a Putin e Zeresky. La pizza di per sé simbolo di convivialità diventa dunque anche messaggio di pace nell'installazione curata insieme all'artista Maria Rosaria Perna. Ascoltiamo. Sono stata contentissima quando Mauro mi ha contattata perché è una tematica importante, ci riguarda tutti, non si parla che di questo quindi sono stata contenta di dare il mio piccolo contributo. I pastori sono stati realizzati in argilla, sono stati dipinti con tempere e poi lucidate.